L'obiettivo dell'intesa tra l'amministrazione comunale di Serni e l'Università del Molise non è semplicemente quello di salvare ciò che già c'è, ma di far crescere l'offerta formativa e creare un polo universitario capace di attirare sempre più gente in città. L'ente di Palazzo San Francesco ci ha messo del proprio, accollandosi le spese di fitto, ha consentito al corso di scienze politiche di restare nella sede di Via Mazzini, nel centro storico, ma questo è solo l'inizio del rapporto di collaborazione tra le due istituzioni. Di Rocini, azioni formative, seminari in cui gli studenti saranno protagonisti, gli studenti che vengono a studiare qui a Isernia avranno una serie di opportunità che devono far decidere di stare qui. Vogliamo che Isernia diventi una città a dimensione universitaria nel vero senso della parola. Il Comune si impegna a offrire, a migliorare quei servizi di trasporto, di mensa, del tempo libero e tutto il resto. L'università deve fare la sua parte e la Regione altrettando. Noi riteniamo che già 2014-2015 possa essere l'anno della svolta. Anche quest'anno l'offerta di scienze politiche è di assoluto rilievo. Quest'anno, devo dire, siamo piuttosto contenti, anche in virtù dei risultati positivi che ci sono arrivati dal Ministero e soprattutto dall'alma laurea. Garantiamo anche quest'anno e per i prossimi i due corsi di laurea triennali, cioè Scienza dell'amministrazione e Scienze politiche, e la laurea magistrale in Scienze politiche delle istituzioni europee. Il magnifico Rettore Gian Maria Palmieri, venendo a inaugurare la Summer School, ha detto una settimana fa, più o meno, che vorremmo potenziare a tal punto questa realtà didattica e formativa dell'Università da trasformarla in un polo di alta formazione e di eccellenza, almeno per quanto riguarda l'Italia medionale. Interessante, grazie anche alla presenza del corso di informatica, la proposta del Dipartimento di Bioscienze e Territorio della Sede di Pesche. Offre il corso di laurea in Biologia, diviso fra primo livello e secondo livello. Quando dico secondo livello intendo una laurea magistrale. E il corso di laurea di primo livello di Informatica. Sono due percorsi ormai consolidati che hanno dato i propri frutti e questo lo si può vedere andando un po' a vedere sia il numero degli iscritti ogni anno e in modo particolare andando a vedere un po' quella che è l'occupazione dopo il conseguimento dei titoli di studio. Questo è molto evidente per quanto riguarda il corso di laurea di informatica.